Un cartello apposto nella tarda mattina di oggi davanti agli uffici della sede di Salerno dell'Inps ha avvertito gli utenti della sospensione delle attività in presenza fino al 9 novembre. Una decisione assunta tutela anche dei pazienti oltre che del personale dopo che sono stati rilevati alcuni casi di positività al covid-19 riscontrati tra il personale del centro medico legale della direzione provinciale dell'Inps di Salerno. Naturalmente sono stati avviati i tracciamenti dei contatti stretti. Nel frattempo le attività per il riconoscimento dell'invalidità civile proseguiranno a cura del centro medico legale a distanza. Gli utenti sono stati contattati e in caso di necessità di visita in presenza saranno riconvocati appena possibile. Intanto in occasione della commemorazione dei defunti il prossimo lunedì il cimitero monumentale di Salerno sarà aperto al pubblico dalle 7 alle 17.30. Stessi orari anche per tutti i santi domenica 1 novembre. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Salerno che però al fine di prevenire i assembramenti e garantire il necessario distanziamento tra i cittadini ha previsto anche un contingentamento agli ingressi. In particolare saranno aperti sette varchi uno da Fratte e gli altri lungo via Brignano. Ciascun varco sarà presidato da personale del cimitero e volontari della protezione civile. All'ingresso sarà misurata la temperatura corporea mediante termoscanner. In considerazione della fase emergenziale il Comune ha invitato la popolazione e soprattutto le persone più fragili a recarsi presso il cimitero in giorni diversi dal giorno 1 e 2 novembre. Per dare la possibilità di commemorare i propri defunti ci sarà anche una messa alle 18 a cancelli chiusi che sarà celebrata dal Vescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi.